Il Paradiso delle Signore, trama puntate. Giovedì, 17 marzo 2022. Inevitabilmente, Umberto si accorge dello strano atteggiamento di Marco, che sembra nascondere qualcosa. Guarnieri si adopera subito, per scoprire cosa sta succedendo, e così si reca in foresteria, venendo a conoscenza del fatto che Stefania, è nascosta lì da diversi giorni. Umberto, reagisce malissimo a questa scoperta, ed intima alla Colombo di trovare rapidamente una nuova sistemazione in tempi brevissimi, prima di essere cacciata. Fiorenza e Dante si mettono d'accordo, per portare avanti il loro nuovo piano, che ha come scopo mettere in cattiva luce Vittorio, e far precipitare la sua reputazione. I due pianificano di boicottare la sfilata, che avrà luogo al circolo, motivo per cui è stata organizzata, proprio lì. A Milano arriva inaspettatamente, la madre di Anna. La presenza della donna, causa molte difficoltà, al rapporto tra Amato e la Imbriani, già messo abbastanza a dura prova, dal mancato trasferimento e acquisto della casa. Marco prende le distanze da Gemma, ancora più di quanto fatto prima. La ragazza resta molto ferita, da questo atteggiamento, e si presenta direttamente a Villa Guarnieri, per capire cosa sta accadendo. Marco e Gemma si baciano, e Stefania assiste a questo momento. La Colombo capisce che per lei, è arrivato il momento di andarsene. Grazie a tutti.